Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Lo scorso novembre, Eleonora Giorgi, 70 anni, aveva rivelato durante il programma Pomeriggio 5 di aver ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas, ora comincia un percorso che condividerò con tante altre persone, tra chemio, operazioni e il ritorno. Voglio vivere tutto questo insieme a voi. In quell'occasione, l'attrice aveva sottolineato l'importanza di non vergognarsi della malattia, ricordando che non siamo Superman. A quasi un anno di distanza, Giorgi è tornata a parlare della sua esperienza in un'intervista Verissimo, dove, in collegamento da casa, ha affrontato nuovamente il tema della malattia. Ora, Giorgi ha parlato apertamente del percorso di cura molto impegnativo che sta affrontando, sottolineando che la sua priorità è vivere il presente, circondata dall'amore della famiglia e degli amici, sto ricevendo molti messaggi d'affetto, anche da persone che non sentivo da anni. Questo mi dà molta forza. L'attrice ha inoltre parlato del suo rapporto con la propria immagine, nonostante gli effetti delle terapie. Mi dicevano sempre che i miei capelli biondi erano i più belli del cinema, ma ora voglio dire a tutte le donne che fanno la chemio di non vergognarsi, anche senza capelli, siamo tutte belle. Nonostante le difficoltà, Eleonora Giorgi ha espresso speranza riguardo a un possibile trattamento sperimentale, una clinica americana ha trovato una possibile via d'accesso per curare questo tumore, anche se funziona solo per una piccola percentuale di pazienti. I miei campioni sono stati inviati negli Stati Uniti e ora aspettiamo i risultati. L'attrice ha inoltre manifestato la speranza di poter entrare a far parte di un programma di cura sperimentale a Verona, confidando che questa possa essere una nuova opportunità nella sua battaglia contro la malattia. Tutti noi faggiamo gli auguri a Eleonora qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.